Ragazzi, oggi vi facciamo vedere la nostra collezione delle checklist delle LOL Surprise Facciamo proprio un passaggio tra tutte le serie, partiamo dalla prima e arriviamo fino alle Air Goals Prima di cominciare mescolo tutto e vi faccio una domandona Lollina la faccio anche a te Vai, spara! Quante sono le LOL? Eh, qualche milione? No, non intendo quante sono le LOL nel mondo Mille Quante LOL hanno inventato? Eh, dice mille Lara Ah, no, sono molto meno, ma vi dirò quante sono in totale alla fine di questo video Quindi guardatelo tutto quanto e iscrivetevi al canale, spuntate la campanella Entrate nel TP Team e a fine video vi dico quante LOL hanno creato Io comincerei subito con la serie che ha cominciato il tutto Ossia la serie 1 e per questo ci serve la nostra Lollina Già Piccolina, guarda un po' che cosa c'è Oh, la mia cartina! Sì, ne abbiamo due Una, che è questa, è la tua Guardate, è vecchia Cioè, c'ha due anni ormai Questa cartina si è praticamente strappata Si è logorata, si è consumata Fammi capire Mi stai dicendo che sono vecchia No, no, no No, no, Rollina È solo che sei la nostra rima LOL Quindi abbiamo conservato la tua cartina Ma guardandola e riguardandola Si è lacerata, insomma E andiamocela a vedere per benino No, c'è anche questa Ed è nuova, possiamo utilizzare lei Ma mi prendi in giro? Perché? È fake Cioè? Eh sì, guarda, leggi qui Lollina ha ragione Questa ve la vogliamo mostrare Vicino a quella originale Per farvi vedere le differenze Questo è LOL Surprise E questo è LQL Che poi nell'altro Seroe Sì, infatti Qui c'è scritto Series 1 E qui c'è scritto Seroes Vabbè Anche se devo dire Che la checklist Era fotocopiata Abbastanza bene Con qualche piccolo errore Ma insomma Ve lo voglio Ve lo volevo mostrare Questa cosa Perché Adesso conosciamo benissimo Che c'è il circuito originale E il circuito fake Ma Nella rima serie Non si capiva un gran che bene Quindi molta gente Cercava di comprare le LOL vere E si trovava delle LOL Insomma Non molto carine Adesso le fake Sono quasi carucce Ma quelle della rima serie Erano terrificanti C'era una che C'era una LOLina fake Che mi faceva paura È vero Lara aveva visto in pubblicità Una LOLina fake Che la spaventava Aveva degli occhi strani E quindi non le piaceva E di questa serie Possiamo vedere Veramente delle LOL Molto importanti Che hanno fatto la storia Delle LOL Tra cui le glitterate LOLina Queen Bee Oppure Summer Baby Insomma Ce ne sono veramente tante Che sono famose E sono rimaste nel cuore di tutti Come Diva O Rocker MC Swag Che praticamente Fan parte di quasi tutto Il merchandising Delle LOL Ok Dividiamo questa cartina E passiamo Alla serie 2 Questa cartina qui È già una Seconda wave Quindi le vediamo Tutte quante Se vi ricordate bene Sia della prima serie Che della seconda Che della terza Queste LOL Vengono divise in wave Quindi hanno Un incarto differente E dividono la serie In due volte Quindi qui potete leggere Che in alcune di loro C'era scritta Napping Perché facevano parte Soltanto della prima ondata Mentre le altre Della seconda E anche qua Lara Ne abbiamo Di belle Kitty Queen Splash Queen Che è fantastica Luxi Luxi che ha inaugurato Il club 24 carati Francasta Bonbon Bonbon è stata una Delle più amate Jitterbug Sì bellissima Snow Angel Pajon Eat Baby Eat Baby Elegantissima Alice E qui possiamo notare Come Delle LOL Normali Delle LOL Comuni Esatto Anche Neon Delle LOL Comuni Abbiano Riscontato tantissimo Successo E siano diventate Le più amate Di alcune rare Quindi in effetti Qui c'era Alice Che adesso risulta Veramente introvabile E magari Bonbon O Eat Baby Che erano andate Su come quotazione Dell'usato tantissimo Perché erano Veramente Bellissime Questa era la serie 2 Arrivati alla serie 2 Succede qualcosa Che cosa? Arrivano le LIL Già Vengono Praticamente Lanciate sul mercato Anche le sorelline Mignon Quelle piccole Piccole Le sorelline Minori Infatti LIL sister Vuol dire Piccole sorelle Sorelline Insomma E Le LOL Che conosciamo bene Cominciamo a vederle Anche in versione TPT Il TPT è Il suono Che fanno Le nostre LOL Le nostre LIL Nel nostro canale Perché Boh Ci è venuto così Abbiamo inventato Questo suono E adesso Praticamente Le nostre LIL Dicono sempre TPT E sono sicura Che anche le vostre Quando ci giocate Dicono TPT E dopo le nostre Tipitine Andiamo dalla serie 2 Verso la serie 3 E questa Ha cambiato Un sacco di cose Perché questa serie Si chiama Confetti Pop Perché? Perché le palline Da essere semplici Casette Come quelle della prima E della seconda serie Diventano esplosive Cioè la corticella Si tira Ed esplodono Rivelando la LOL Le LOL Arrivano sempre in spaccata E Della parte Della pallina Abbiamo degli scomparti Per aumentare Ancora di più Questa esperienza Dell'unboxing Secondo me Le LOL Sono così famose Perché Il fatto che Bisogna scartarle A pezzi In varie fasi Un pochino riprende L'effetto Unboxing Dei video Su YouTube E qui abbiamo Un sacco Ma un sacco Di LOL Veramente Molto belle Le glitterate Qual è la tua preferita Qua dentro? Non lo so Sono indecisa Poi abbiamo Questo Poi abbiamo Questa che è Una sorpresa Ma ormai Già sappiamo Che individuava Le Pearl Pearl Surprise Ossia Due edizioni Speciali Due Sfere Mezzosfere Contenenti una LOL E una Lille Che vengono dopo Il grande successo Della Big Surprise In cui c'erano Appunto Purple Queen Stardust Queen Le Opposite E tante altre E qui C'è un altro Cambio epocale Qual è? Arriva lui Arriva lui Arriva Panchino Punk Boy È il primo Maschio In questo Arem di femminucce E quindi Il più ambito Il più amato Il più desiderato Di tutti quanti Perché i LOL I LOL Sono soltanto due E questo È il primo Poi è arrivato Scribble Ma insomma Sono due Su veramente Una marea di LOL E qui c'è un'altra cosa Che ha fatto epoca A parte le rare E le ultra rare Ossia Black Tie Bitnik E Candu Baby Candu Baby Forse è una delle ultra rare Menù ultra rara Di tutte Perché praticamente È un po' tranquillina Come vestitino Anche se lei Ha Non è stata così famosa Ma ha un cambio colore Veramente pazzesco E poi c'è Glamstronaut Che cambia tantissimo Anche lei Ma Quella che più ha scatenato L'amore di tutti quanti Lei È un unicorn Unicorn È comune Ma tutti 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 La volevano Ovviamente Qui si comincia Anche a capire Il fatto che Alcune LOL Cambiano colore E altre no Quindi gli adesivi Cominciano a prendere Una forma diversa Prima erano tutti Da attaccare Adesso si comincia Già a intravedere Che cosa faranno Quindi Se nella prima serie Se nella seconda serie Avevamo completamente Il punto di domanda Adesso possiamo già capire Che cosa potrebbero O potranno fare Che cosa succede Nella serie 3 Le Lil Sono sempre Lil Ma si aggiunge Una nuova famiglia Quella Dei pet Cioè arrivano I cucciolini Dele doll E ognuno Di loro Assomiglia Alla sua padroncina Quindi abbiamo Il cucciolino Di Alice Piuttosto che Quello di Brancasta Piuttosto che Quello Di Super BB Di Neon Insomma Ce ne sono Veramente tanti E alcuni Sono abbinati In coppia Quindi come Dopo Ragno Che nella nostra casetta E nelle nostre storie Lappa l'acqua Dal BC E' fatto così Il suo carattere E' quello Insieme a lui Esattamente Questi di misura Più piccola Poi li rivedremo Più avanti E i Tochitti Con lui Esatto Heartbreaker Dopo la serie 3 Succede qualcosa Va via il numero La serie 4 Non ci ha scritto Serie 4 Ma diventa Underwraps Le Underwraps Hanno un gioco Particolare Ossia una lente Questa qui Un Ice Pie Che permette Di degodificare Alcune cose E quindi Si innesca Un gioco nuovo Un gioco Per capire Il nome Di due LOL Particolari Che sono Che sono Agent LOL Agent Babe Esatto Che usciranno Nella Bigger Surprise Esatto La scatolona Con dentro Le LOL Con le parrucchette E le parrucchette Poi Diciamo che sono La preview Di quelle Con i capelli Abbiamo Le Lille Che per la prima volta Non sono sul retro Della checklist Delle LOL Ma sono su una cartina A parte Ed eccole qua Ci manca La cartina Della Wave 2 Perché Non l'abbiamo trovata Abbiamo aperto Soltanto una Wave 2 E la faremo vedere In un prossimo unboxing In cui ne apriremo E poi dall'altro Se passate qui Sopra l'Ice Pie Potete capire Se è maschietto O femminuccia Esattamente Qui ci sono I LOL Che sono quei due Ma ci sono anche 4 o 5 Lillini Maschietti Ok Prima di arrivare All'ultima serie Passiamo alle serie Intermedie Abbiamo visto che sono uscite La Big Surprise La Bigger Surprise Le due Pearl Ma ci sono anche Queste serie in più Cioè Le Glitter Le Glam Glitter E le Bling Ossia ciclicamente MGA ha riprodotto Alcune delle più famose LOL Arricchendole con qualcosa Con dei Glitter Glitter e vernice perlata Glitter Vernice perlata E Fuzz Sì Fuzz Zuccherini Insomma dei Glitter Particolari A bacchettina Molto molto carini Questo è stato un modo carino Per far sì Che chi non aveva Quelle LOL Delle serie precedenti Aveva una seconda possibilità Per trovarle Quindi che ne so Chi non ha avuto Alice Chi non ha avuto It Baby Chi non ha avuto Sugar Esatto Con queste serie Ha potuto rifarle Sono uscite anche Non abbiamo le cartine Perché non le abbiamo mai comprate Delle re-release Ossia serie 1 E serie 2 Sono state riprodotte Ma con un numero limitato Di bambole Ne hanno fatte soltanto Una dozzina Per ogni serie Bene siamo arrivati Siamo arrivati Alla serie Higher goals Ossia Dopo le palline Dopo quelle che scoppiano Dopo la lente di ingrandimento Decoder Che cosa ci dobbiamo inventare? Dopo i comparti Esatto I capelli E quindi le lol Praticamente hanno i capelli Sono capelli cuciti Veri Propri Tessili E all'inizio devo dire C'era un po' di scetticismo Poi le abbiamo viste Sono veramente bellissime E qui succede un'altra cosa Che appunto Queste lol Hanno i capelli Una è ultra rara E c'è i capelli E poi ci sono due rare Che non li hanno Cioè hanno fatto In una serie di bambole Con i capelli Due senza capelli Le hanno fatte diventare rare Però insomma Non hanno i capelli Però devo dire Che sono molto molto carine E hanno delle finiture glitterate Però ovviamente Quindi è bellissima Se io dovessi prendere La mia prima Air Gold E mi uscisse senza capelli Un po' ci rimarrei Un po' stranita Prende Se esce dopo 4-5 Può anche andare Ok Anche qui Ci sono delle comuni Che hanno fatto breccia Specialmente Splatter È comune Ma è veramente Super ambita È super amata Ed è molto difficile Da cercare Da trovare Anche usata E poi c'è Witchey Che è la nostra Prevedo Che ci fa troppo ridere E quindi Di questa serie Il nostro personaggio È lei praticamente Ok Vi abbiamo mostrato queste Andiamo ai pet Che sono questi qua Hanno aggiunto ancora qualcosa Se facciamo i capelli Alle lol Come facciamo con i pet? Già E quindi qua Abbiamo i fasi pet Che hanno combinato? Li hanno resi Pelosetti Già E sono tutti da lavare Quindi come portarli Vedete È tutto ambientato In un salone di bellezza Per quanto riguarda le lol Che sono dentro A una lacca Mentre loro Possono essere portati Alla toiletta E quindi vengono lavati Gli viene fatto il bagnetto E vengono Tosati E quindi lavandoli Vanno via i peletti E esce il nostro pet E esce il nostro pet Penso che ne usciranno altri Perché vedo gli specchietti Quindi questa è la prima wave Che cosa ci rimane? Tadam! Questa Questa è un'altra grande novità Sempre a tema salone di bellezza Perché vediamo sempre gli specchi Ma hanno fatto le lils Ossia Hanno unito Le lils E i pet Ma sono più piccoli Sono dei pet Di dimensione Ridotta Sono piccolini Un po' come gli ultrarali Che uscivano accoppiati In questo caso Escono da soli E sono veramente Uno più carino Dell'altro Ne avevamo visti Alcuni Nelle Biggy pets Che è un'altra Delle serie limitate Ne sono uscite sette Che sono quelle Con I grossi animali Che contenevano Dentro dei pet Piccolini Bene Abbiamo visto Praticamente Tutte le nostre cartine La nostra collezione Di checklist E Che c'è? Ah devi dire quante sono Hai ragione Lollina Vi avevo promesso All'inizio del video Che vi avrei detto Quante lol esistono In totale Ebbene Se uniamo Lol Lil Pets Mini pets Pet live pets Quelli interattivi Bigger Pearl E tutto il resto Arriviamo a 460 Ma sono un secco Esatto Le lol Quelle grandi Quindi quelle così a ragazza Sono 177 Siamo un plotone Esatto E tu le hai tutte No non le ho tutte Ve le mostrerò in un prossimo video In uno speciale Non le abbiamo tutte quante Però insomma Sono veramente Ne hanno fatte veramente un sacco E vi dico soltanto che Le lil Sono 134 Circa E quindi sono veramente Un sacco Wow Veramente Siamo veramente tantissime Probabilmente è uno dei giocattoli Che veramente Ha avuto più Successo Diciamolo che è stato Il giocattolo più venduto Nel 2017 E nel 2018 E insomma 2019 E che ne so Non lo sapremo Però intanto Voi che siete lolisti Scrivetelo nei commenti E ragazzi A proposito Se vi è piaciuto questo video Mettete un like Vi mostrerò Qualcosa che ci manca Ossia la cartina mancante E vi dico anche Che ce ne manca una Cioè È quella Questa qui ci manca Della serie Ice Pie Ci manca quella Dei pet Cioè quella col mio pet Eh sì Pollina Eh sì Non l'ho trovata Ma perché? E che ne so Le mettiamo tutte quante In una scatola Non ci preoccupare Rollina La troveremo Vabbè Comunque sì C'erano anche i pet In cui c'è il mio pet Sì E fanno parte Della serie Ice Pie Vabbè Non fa niente Ragazzi Spero che vi siete divertiti Qui metto i nostri bollini E dei canali In modo che vi possiate Iscrivere entrambi E qui qualcosa di carino Da vedere dopo Un bacio a tutti quanti Ciao Ciao